La lotta alle mafie è anche la lotta della memoria contro l'oblio, spesso noi dimentichiamo ed è importante invece ricordare quello che è successo perché ci aiuta a combattere meglio le mafie. Spesso le abbiamo combattute solo sul piano repressivo, con le sentenze, con le manette ed abbiamo ignorato e sottovalutato l'importanza della società civile. Da sette anni incontro i giovani in Italia e in quasi tutte le regioni, sono una grande risorsa. Dobbiamo pensare che nella lotta alle mafie è fondamentale il contributo di tutti, soprattutto dei giovani che devono scoprire il fresco profumo della libertà, come diceva Borsellino, e ripudiare il puzzo del compromesso morale. I giovani sono più sensibili rispetto al passato, avvertono di più la presenza delle mafie, la vedono come una minaccia, come qualcosa che uccide i sogni e le speranze, partecipano con entusiasmo. Molti giovani all'indifferenza hanno scelto la consapevolezza.